Ciao a tutti, in questo video parlare delle razze aliene, tra virgolette, certificate. Certificate cosa significa? Significa che sono state, diciamo, descritte così negli avvistamenti oppure dagli umani che sono stati adotti, cioè vittime di rapimenti alieni sia di natura fisica sia di natura mentale. Allora, la più gettonata di queste razze, quella che è stata identificata da tanti tipi, è quella dei grigi. Poi ve ne sono anche diverse varianti. Comunque i grigi sono di piccoli umanoidi, alti circa un metro più o meno, con gli occhi completamente neri, grandi, a mandorla, niente naso, naso appena accennato, una bocca molto piccola e mani con dita molto lunghe, tre o quattro dita. Sono, diciamo, ritenuti provenienti da, diciamo, dalla costellazione di Orione comunque e vengono descritti come presenti in molti rapimenti alieni. Poi abbiamo gli insettoidi. Gli insettoidi che hanno, sono umanoidi, ma con sembianze di insetto. Ne sono stati descritti, diciamo, tra i casi di rapimenti alieni, ne sono stati descritti con fattezze a forma di mantide religiosa. Interessante è il caso di un'altra razza aliena rettiloide, che è quella dei Dargos, che è quella descritta da Fortunato Zanfretta di Genova, che ha subito diversi rapimenti da parte di questi esseri che hanno, gli hanno in qualche modo comunque rovinato la vita, perché ne ha avuto comunque delle conseguenze abbastanza pesanti. Abbiamo poi i Lux, che sono esseri di pura energia, che si nutrono dell'energia dei corpi di cui entrano in possesso. Quindi i Lux sono creature parassitari e secondo molte testimonianze di addotti o di persone che hanno avuto questi parassiti, diciamo tra virgolette, l'ospite, l'ospitante si sente sempre molto stanco e hanno, diciamo, assorbo l'energia proprio stimolando emozioni non positive. Abbiamo poi tutta una serie di razza alieni, che sono gli alieni nordici, di cui fanno parte i pleiadiani, i venusiani, e sono descritti come simili agli scandinavi, diciamo, quindi con tratti nordici, ma di, diciamo, di statura più elevata. E poi vengono i rettiliani, i rettiliani ad esempio di cui i Dargos fanno anche parte. I rettiliani sono umanoidi con tratti dei rettili. Secondo molte teorie complottiste, i rettiliani in questo momento stanno dominando il mondo e si pensa che siano loro, ad esempio, a controllare anche i grigi. Poi vi sono altri esseri, ad esempio gli Horus Ra, che sono creature parassitarie, perché assomigliano, diciamo, hanno una certa somiglianza con il dio egizio e sono creature parassitarie provenienti da altre dimensioni che hanno questa, diciamo, caratteristica anche questa di assorbire energia. Poi ve ne sono anche altre, diciamo, altre descrizioni, ad esempio i felinoidi, i grandi umanoidi contratti da felino e una folta peluria che ricopre il loro corpo. Diciamo, non sembrerebbero aggressivi, almeno dalle descrizioni, non sembrerebbero aggressivi nei confronti degli esseri umani, anche se ultimamente stanno venendo fuori diverse teorie su casi di parassitosi da parte di alieni, cioè che utilizzerebbero, come ho spiegato in un altro video, la mente dell'essere umano per depositare delle memorie aliene, in modo tale da garantire una continuità di vita ad alieni che sarebbero per vecchiaia o per altri motivi comunque morti. Quindi è interessante tutto questo e, diciamo, sicuramente vi sono tantissime segnalazioni, poi tutti i testi antichi riportano, diciamo, delle storie di antichi astronauti ed è interessante. È interessante, appunto, un'altra razza aliena è quella degli Anunnaki o Elohim che invece vengono descritti prevalentemente dai testi sumeraccadici. Secondo gli studi di Zakaria Sitchin, dovrebbero provenire dal pianeta, dal mitico pianeta Nibiru, di questo sistema solare, con un'orbita di circa 3600 anni attorno al Sole e questi esseri che si sarebbero insidiati, diciamo così, sul pianeta Terra, in qualche modo spartito il pianeta Terra circa 6000 anni fa, avrebbero anche contribuito in diversi momenti alla modificazione genetica dell'essere umano, cioè alla creazione dell'essere umano attraverso modificazione genetica delle scimmie, dei primati presenti sul pianeta. Degli Anunnaki troviamo sicuramente tracce in tutti i testi sumeraccadici e poi ovviamente sotto il nome di Elohim nella Bibbia. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!